Nuove figure entrano a far parte del sistema di istruzione e formazione professionale con percorsi triennali e diplomi quadriennali più attinenti alle esigenze dei comparti strategici dell'economia toscana. La novità è stata presentata dall'assessore regionale Cristina Grieco nel corso di un seminario rivolto al mondo della scuola e del lavoro. I nuovi corsi formeranno operatori e tecnici per le lavorazioni della pelletteria, dell'oro, dell'apidio, del tessile e della gestione delle acque per il risanamento ambientale. Abbiamo fatto, dicevo, come regioni un grandissimo lavoro, durato due anni, che va però nella direzione di prevedere un nuovo repertorio di figure molto più attinente, molto più rispondente a quelle che sono le esigenze delle imprese, che spesso lamentano di non trovare giovani da inserire nei propri organici, proprio perché gli esiti dei percorsi formativi spesso e volentieri non rispondono a quelle che sono le esigenze. Il repertorio dei nuovi corsi entrerà in vigore dall'anno scolastico formativo 2020-2021. L'obiettivo della regione toscana è elevato. Dare pari dignità a tutta la filiera tecnico-professionale rispetto a quella di istruzione in senso stretto, quindi la filiera liceale e poi universitaria, perché chi sceglie dopo la scuola media di conseguire una qualifica non è detto che si debba necessariamente fermare lì. Noi stiamo costruendo una filiera di qualità che vada anche al diploma e anche al post diploma con gli ITS, arrivando quindi a livello terziario che ha pari dignità e anche pari inquadramento a livello europeo rispetto alla laurea triennale. Negli ultimi quattro anni il tasso di dispersione scolastica in Toscana è sceso dal 16 al 10,6%. Grazie. 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 Grazie.